Sono stato molto felice di partecipare a questa iniziativa, davvero un appuntamento molto interessante e soprattutto un appuntamento molto utile per darci il senso di tutto quello che lo sport e in questo caso lo sport legato al cavallo può sviluppare davvero numeri importantissimi che ci pongono in condizione di supportare, di tutelare questa filiera che può davvero diventare uno degli asset fondamentali dello sviluppo della nostra regione e del nostro paese. Noi come Regione Lazio nel nostro piccolo stiamo puntando su una partnership forte con la Federazione Italiana Sport Equestri in particolare su due eventi Piazza di Siena e i mondiali che si svolgeranno ai Pratoni del Vivaro l'anno prossimo nel 2022 con un investimento importante che ci permetterà di utilizzare questi grandi eventi come vetrina delle bellezze e delle produzioni del nostro territorio ma anche un'occasione di riqualificazione del territorio di miglioramento della qualità della vita per tanti cittadini con un investimento importante che ci consentirà non solo di riqualificare l'impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro ma anche di rendere migliore tutta la viabilità intorno a quel luogo e quindi in ultima analisi migliorare la qualità della vita dei cittadini ecco credo che lo sport possa aiutarci ad arrivare a tutto questo dobbiamo puntarci ancora di più e dobbiamo soprattutto avere la capacità di fare squadra davvero grazie